Giunga il mio incoraggiamento a Nicola, Kella e Imma che stanno studiando duramente da tempo, hanno superato persino le difficoltà della pandemia pur di portare a termine la loro impresa di presentarsi agli esami di terza media. Uno potrebbe pensare che si tratti di tre normali allievi di scuola media e invece no, sono tre gagliardi anziani delle nostre terre di Puglia che in un'età molto avanzata ma in perfetta forma mentale e fisica hanno deciso di prendersi la licenza della scuola media, un sogno che avevano da sempre, che la loro vita dura, complicata, con tanto lavoro gli aveva impedito di fare e che adesso fino finalmente sono riusciti a coronare. Quindi giunga loro il plauso, i complimenti, le congratulazioni di tutta la Puglia e anche quelli miei personali perché davvero sono un esempio per tutti noi. Bravissimi!